Beppe Fiorito al termine di una partita che il Cislago, la Cistella, scusi, ha cercato in tutti i modi di vincere. Sì, ci abbiamo tentato, però purtroppo è sempre mancato in fase di costruzione, magari qualche passaggio indirizzato meglio e soprattutto in fase di rifinitura, dove magari con un po' più di tranquillità e magari con qualche passaggio filtrante meglio indirizzato potevamo far male, però purtroppo non ci sia riusciti e quindi la castellanzese è difesa con ordine, ha tentato in tutti i modi di strappare un pareggio, ci è riuscita. Ecco mister, comunque io direi che quello del Cisago sta diventando un campionato importante perché credo che l'obiettivo della squadra ormai dichiarato non possa altro che essere arrivare ai play-off. Sì, beh sicuramente ci siamo e ci dobbiamo rimanere, però ci mancano almeno 7-8 punti per avere la certezza di fare questi play-off e adesso mancano 4 partite e dobbiamo in tutti i modi cercare di recuperare questi punti, quindi il nostro obiettivo è quello. Facciamo ovviamente i nostri migliori auguri a tutta Cislago per questo obiettivo, arrivederci mister. Arrivederci e altrettanto in bocca al lupo la castellanzese. Grazie a tutti.